Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Come dire, a frenare anche l'ottimismo che veniva da alcune dichiarazioni delle autorità iraniane sull'idea che si potesse, anche del procuratore generale, che si potesse mettere da parte la polizia morale e aprire anche alla possibilità per le donne di non avere l'obbligo di indossare il velo. Tu hai detto attenzione, non è così e in effetti è stato un po' un giallo queste dichiarazioni ma purtroppo non sembra che stia andando a buon fine. Allora questo collegamento per fare un po' il punto su una situazione che veramente è molto importante seguire per il livello di dramma proprio che c'è in questo momento, però anche l'enorme coraggio di cui stanno dando prova donne, giovani, uomini, commercianti. Sì, è il più grande sciopero da quando è nata la Repubblica Islamica dell'Iran. Tutti i negozi e le aziende hanno abbassato l'Islande. Pensate che l'adesione allo sciopero ha sfiorato il 100% da Teheran fino alle regioni più remote come quelle del Kurdistan iraniano, del Sistan e del Balugistan, le più critiche. Domani sarà una giornata cruciale e simbolica, la giornata degli studenti universitari e si prevede un raduno di centinaia di migliaia di studenti in piazza della libertà a Teheran. Ma ritornando a quanto dicevi prima giustamente, le autorità iraniane non sanno più come disinnescare le proteste davanti a giovani che li affrontano a mani nude con i fucili puntati, sono disperate. E domenica si erano appunto inventate, letteralmente inventate, l'abolizione della polizia morale. Ma ciò non era vero, come era evidente fin dal primo momento, perché non era stato confermato da alcune autorità e media di regime. Ed è stato un tentativo, diciamolo, goffo, di ingannare e di dividere i manifestanti che stanno tenendo sotto scacco le forze di sicurezza da 80 giorni. Le autorità iraniane speravano di disinnescare in questo modo la pacifica rivoluzione e di assicurare la comunità internazionale presentando un apparente volto riformatore. Il gioco delle autorità iraniane sulla rimozione dell'Ijab non è altro che un inganno. I giovani rivoluzionari non si vogliono far mettere da parte con questo trucchetto. Chi sacrifica la propria vita manifestando a mani nude davanti a proiettili non è in strada per togliere l'obbligo del velo, ma per cambiare un intero sistema, il regime. E appare anche come propaganda quella iraniana per l'Occidente che finora ha mostrato di credere nella possibilità di un'autoriforma del sistema teocratico. Non è possibile alcuna autoriforma. Questo i manifestanti lo sanno e le dichiarazioni di Montazzeri sembrano anche rivelare l'esistenza di dissidi all'interno dell'amministrazione iraniana. Il magistrato infatti è molto vicino al Presidente Raisi che sembra essere disponibile ad alcune riforme rispetto all'intransigenza fin qui mostrata da Khamenei, la guida suprema, il quale appare molto irritato nei confronti del Presidente iraniano perché non sarebbe stato capace di reprimere la rivoluzione. Ma le donne quando dicono no all'Ijab dicono no alla Repubblica Islamica. E attenzione, in realtà l'Ijab obbligatorio, il velo, già è stato abolito in Iran. Lo hanno abolito di fatto le donne. Non si torna più indietro. È un altro Iran quello che sta nascendo. Però Mariano, però noi vediamo che la repressione è veramente molto forte. Quanto può reggere una popolazione con le condanne all'impiccagione? La popolazione è determinata ad andare avanti e lo si sta vedendo. Quanto può reggere dipende anche dal sostegno che l'Occidente, il mondo libero, è in grado di dare a questi studenti, di assicurare a questi studenti. Quale sostegno? Gli studenti dicono il regime lo abbattiamo noi. Voi non sostenete più la Repubblica Islamica dell'Iran che ammazza i propri figli. Ecco, il sostegno che può arrivare, sarà molto importante, è quello di isolare questa Repubblica Islamica e di inserire i Pasdaran, cioè i militari del corpo delle guardie rivoluzionari, loro leader, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche come stanno facendo la Germania, per esempio, come ha fatto il Canada e come stanno dichiarando anche altri paesi. L'Italia su questo, ahimè, è un po' indietro. Sentiamo un momento, grazie Mariano Giustino, intanto volevo chiederti...